Amici di Alte, buongiorno, Circo Natale di Sommaggioni, oltre alla frequentazione personale abbiamo qui il presidente Afro Zoboletti insieme a Simone Vagnozzi che cercherà di far crescere questo circolo. L'avatore dice Chinato, non ha bisogno di presentazioni, quindi questo è qualcosa che va ad arricchire il circolo e non solo. Sì, abbiamo trovato questo accordo con Afro, ci siamo parlati, ci siamo confrontati su quello che poteva uscire di buono da questo discorso e abbiamo iniziato da un mesetto con l'aiuto dei maestri qui, io provo a portare la mia esperienza di allenatore di alto livello, di ragazzi che giocano ATP, sto provando a portare le mie idee e vediamo come andrà. Ecco, ci sono tanti giovani interessanti che il presidente insieme ai suoi soci fa tanti sacrifici per portarli avanti in giro per l'Italia, c'è anche il vicepresidente che sta facendo le vocine da fuori campo ma non ne parliamo perché è arrivato tardi. Presidente, questo passo è importante anche perché c'è un qualcosa dietro che deve essere migliorato. Sì, infatti abbiamo scelto questa occasione per presentare ufficialmente questa collaborazione che ormai è da un mese che ha iniziato, siamo molto felici. Già l'anno scorso avevamo avuto modo di apprezzare Simone a cui avevamo dato ospitalità con il suo staff insieme a Cecchinato e a Marcora, se non ricordo male, è venuto qui a allenarsi per una settimana. Ci aveva molto colpito la professionalità, a parte conoscevamo da giocatore, da persona, quindi la professionalità di Simone. Abbiamo stretto un accordo per farci dare una mano e una crescita dei ragazzi. I nostri ragazzi sono la nostra risorsa e noi vogliamo spendere tutte le nostre energie per loro. Siamo convinti che Simone con l'esperienza, con la voglia che ha di darci la mano, possa portare qualcosa in più che possa permetterci di continuare a crescere. Un inizio di qualcosa che potrebbe essere molto interessante per il Maggioni, per San Metto, per le Marche, per tutti noi e magari anche per Simone. Per chiudere con te Simone, giustamente già ti sei approcciato qui a San Metto del Tronto, quindi ti prendiamo più spesso, discorso che portare avanti già da subito. Sì, io vivo qui, vivo a Castorano, quindi nei momenti dove non sono fuori con i ragazzi, perché alleno sia Cecchinato che Stefano Travaglia, che è di Ascoli. Nei momenti che sono a casa, aiuterò qui il circo, aiuterò i maestri e porteremo avanti un discorso sperando che i ragazzi marchigiani non dovranno più emigrare fuori. Sì, questa è la mia intenzione, l'intenzione di Afro, perché troppe volte siamo stati costretti, primis io che a 16 anni mi sono mosso, sono andato a Bolzano, a dover emigrare un po' troppo presto. Vogliamo creare qualcosa di importante qui e qualcosa che aiuti i ragazzi a crescere. In bocca al lupo! Grazie a tutti!